Ciao ragazzi, io sono Falconer, oggi sono qua insieme a Elisa Per continuare questa giornata di Halloween Con l'immancabile ritorno su Freddy Allora, è passato una vita dall'ultima volta che l'abbiamo giocato Mamma mia, mesi Mesi, e non l'abbiamo più giocato ultimamente Con tutte le cose che ci sono state Però oggi non si poteva fare a meno di tornarci Allora, Camp Crystal Lake Siamo nel 79 E Jason è più arrabbiato che mai Le cose stanno ricominciando esattamente dove le avevamo lasciare Siamo noi, siamo noi No, magari A parte che magari anche no, perché io non so No, no C'ho il cardigan Siamo il milanese Sono quello col cardigan Sono quello col cardigan Scusi Scusa Bionda Non ci sono bionde? Cerchiamo una bionda 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 Andiamo in tendina Andiamo in tendina Trattieni respiro Per quale motivo? Perché almeno non ci sento Basta Trattieni respiro Per due secondi Vabbè, esco Si fuma i sigari cubani Come so Andiamo Uè Guarda che corsa spigliata che c'ho Andiamo a prendere Ah Yomi Yomi Yomo Patatina Vieni qua Patatina Schifo patatina Patatina Vieni qua patatina Se fai la brava ti faccio accarezzare il cardigan La manica del cardigan Che cosa mi è successo? Qualcuno mi ha lanciato qualcosa Oh ma fatta la cinghietta lei No, aspetta Aiutiamola Che la aiuti? T'aiuto Vieni Vieni qua Zuccherino Eccolo Dov'è No C'ha i pantaloni Alla zuava Attenta Non so come sia i pantaloni alla zuava Vabbè Bella No, vediamo Ma che vediamo Guarda come corre Saltella Non la posso fare Chiudi la porta Chiudi Chiudi la porta Ma sono ancora fuori io Chiudi 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 Mi vado a nascondere Dentro l'armadio Così non mi ruba il cardigan Però la porta Però la porta è rimasta aperta Io non vorrei di C'è C'è un piccolo Eschio Vai vai Eschilo Figura Vai vai Addirittura Sorpresa Tac La batteria della macchina Trovate una parte Che la portiamo tipo borsa Tocca premi Ero là Con la mia batteria E gli ho detto Amico Non mi avrai Non te lo dico Dove ho occupato il cardigan Eccolo 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 Nasconditi qui dentro Sembra un film horror Che gli consigli Fatti Sono rimasto fuori Il mio cardigan è rimasto fuori E non solo quello Perché ho visto che l'ha rimasto fuori Anche un bel pacco di roba Ehm Con lui rosso Ma io la radio che ho trovato Che cosa serve No 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 Il telefono Ah Per chiamare Jason Ecco Sono uscito tipo Dracula Dopo la L'esumazione Perché siamo bloccati Si è Si è bloccata l'animazione Sul Rientaci Allora per uscire da questo momento Di impasse Non ci entra Si è buggata l'animazione No Allora Ehm Lascia Vieni 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 Aspetta eh No Eh non si fa così Sviluppatori Quanto rito Sono rimasto Jason Io ho bisogno di Non so come controllarlo Perché C'ha tutti i controlli sballati Chiaramente Perché la visuale è quella Posso rientrare Niente Non Jason Dai non c'è un modo Per sbaggare Stacosa Ma senti che sto gioco Mi posso Per sbendicare Perché Oddio C'è Eccolo Io ho bisogno di rientrare qui dentro Qualcuno mi dia una pizza Così forse si sbagga Niente Vado Di là Il negozio è di là Il negozio è di là Qual è il tasto che sta ad entrare in un armadio Oddio Però di tutti Lo so Sempre molto utile dei complimenti Allora Schiacciami Tenendo premuto A Non succede niente Tenendo premuto X Non succede niente Tenendo premuto B Non succede niente Tenendo premuto X Non chiacchiero Con RB Niente Niente Si è buggato Irimmediabilmente Ma perché Ma Eccolo For Aiuto Aiuto Voglio rientrare Perché si bugga Se è colpa tua Che bugghi sempre tutto Dove essere un video terrificante Non lo è Sembro Tonon Io non so come Che cosa fare Aiuto Tonon incontro me Non so cosa fa Aiuto Aiuto Qualcuno capirà Che sono buggato Signori Stop Signori Qui C'è uno Buggato Oddio Niente Aiuto Ma che Perché si è accesa la one Aiuto Ci sono i fantasmi Io mi sono Io mi sono Buggato Non vedo una mazza Aiuto Niente Eccolo è rientrato Sei sbagato Ferma 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 che sei sbagato Esci Oh Sì Evviva Sì Ma perché si è accesa la one Infatti spegni la one Oddio Perché sei C'ho l'ansia È tipo il video che mi ha fatto più rire in assoluto Oddio Non dire oddio che youtube magari capisce qualcos'altro O mio O mio Io vorrei uscire in realtà Posso uscire da questa porta? Da Finestra? Che cosa? Oh c'è un morto Salve Non lo puoi salvare? L'aiuto io Armati No Non Mi sa di no Allora La sensazione è tragica Avanziamo con calma No è qui vicino a me Lo sento Corri Corri Lo vedo Come cazzo Non si fa Aiuto Aiuto Entra Ma non può Non si può Ma poi ma con tutti i quelli che ci stanno Da me doveva venire questo Entra Niente Aiuto Mi nascondo nel water Non possiamo dargli le botte con la cosa che abbiamo mai Eh beh le fai eh Ammazza Non c'è una finestra Questi quando vanno al bagno come fanno? Muoiono Più la macchina Non ci frega niente Vado Vai Sì Evviva Guido Abbiamo lasciato tutti indietro Ma chi se ne frega Chi se ne frega Qualcuno chiede aiuto Ma io non so chi sia Da che parte vado? Sinistra Sinistra Arrivederci Mondo crudele Fuggo È la prima volta che vinciamo È fatti Credo Ma abbiamo vinto Sì in un secondo video ma soli no Sì Ho vinto Tu sopravvissuto Tu no morto Eravamo partiti male Buggando Credo che tutti quanti ci stiano maledendo Esatto A me piace lui Vero Che cosa Fa effetto denti di Dracula Esatto Ma cosa stanno Stanno conducendo No poverino Ma penso lo stanno facendo apposta Dice il trappolone Voglio credere che sia un trappolone Ma che te frega C'è una partecipazione emotiva Incomprensibilmente intensa Come se fossimo ancora noi Come nei film horror Attento Bastava guardarlo in faccia Ma invece no Col fascino dei suoi denti Ha fatto tipo sole Quando si acceglie L'ha accegato con i denti La polizia nostra Ha chiamato da noi Non l'abbiamo chiamata noi Ci ha telefonato a noi la polizia Vai via Babbeo Ve lo mettono sotto Quelli della polizia Mai Niente Ah perché c'è quella Non sa Ha un dissidio interiore Non sa se aiutare la tipo A farsi gli affari propri Credo che abbia deciso di farti gli affari propri Non con grande convinzione Neanche qua Però Bene Lui ha vinto Questo è disperso nella foresta Lei anche ha sopravvissuta È rimasto lui Ce la farà? Mi sa de no Perché non sembra molto Non sa dove si trova Se sta a fare A camminare nel bosco Questo Cosa? Oh gli scappa Oh gli spagno scappa Ho fregato Sto che avete ste regge Vai Vai Crediamo in te Crediamo in te Gli ha presa malissimo a Freddy Purino mi dispiace Ma perché? No Eh Il povero Il povero Jason Un plurioficida Compatito Per chissà quale ragione Bene Voi vinto No Tu sopravvissuto Vinto sempre Indenne Bene Ragazzi io direi che dopo questa mirabolante vittoria Potremmo salutarci qua Fateci sapere se vi ha fatto piacere Questo grande ritorno su Friday Fateci sapere se vorreste vedere altro E eventualmente che cosa vorreste vedere E noi ci vediamo Alla prossima Ciao ragazzi Ciao 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 Lima